Cioè diciamo che domani finisce la mia mezza settimana in Sardegna Ogni tanto ritrovo a casa fa bene e fa molto piacere Dico ogni tanto perché purtroppo un po' è anche per fortuna Nel senso che finché una persona lavora tanto è sempre bello che ci sia il lavoro Che cosa sto dicendo? Ah ecco quindi niente domani ripartirò andrò via e ritorneremo Usate il secondo eh gli alieni C'è Marzia per cazzo Ciao Ciao Ciao